Cristoforo Colombo non ha scoperto solo l'America ma anche il cacao perché è nel nuovo mondo che il cioccolato affonda le sue origini e il 12 ottobre si celebra il Choco Day istituita nel 2005 promossa da Eurociocolat la giornata nazionale dedicata al cibo degli dei all'obiettivo di celebrare in Italia nel mondo il cioccolato di qualità aspettando Eurociocolat il festival internazionale del cioccolato in programma Perugia da 14 al 23 ottobre prossimi tutti gli amanti del cibo degli dei possono così approfondire la cultura del cioccolato buono buono perché ottenuto esclusivamente con l'utilizzo di burro e massa di cacao senza grassi e oli vegetali aggiunti buono perché capace di tutelare valori etici e sociali legati alla sua produzione buono perché controllato in ogni fase della filiera produttiva in termini di biodiversità trasparenza e tracciabilità un contributo quindi alla promozione di un consumo responsabile e di uno sviluppo sostenibile della filiera cacao cioccolato tutti possono aderire al ciocodei privati cittadini operatori del settore scuole ong istituzioni associazioni e aziende per sostenere l'importanza di tutelare la qualità del cioccolato basta sottoscrivere il manifesto del ciocodei sul sito e Grazie a tutti.